Mirko, un gol che ti ripaga di una stagione anche difficile, stai stringendo i denti e questo gol ti ripaga di queste sofferenze, anche personali. Sì, sono contento del gol perché è una stagione un po' sfortunata dal punto di vista degli infortuni, non sono ancora al 100% e manca una partita diciamo. Sto stringendo i denti per finire questo campionato al meglio, in modo dignitoso più che altro perché non salvarsi sarebbe una disfatta a livello personale, a livello proprio calcistico. Però oggi penso di guardare il lato positivo che è il risultato, il gol e le azioni che abbiamo creato. Ecco, avete segnato nel momento più difficile, primo tempo, quattro palle gol, poi prima dell'intervallo il gol del Lumezzane e all'inizio di ripresa sembrava che il Teramo stesse facendo un po' più di fatica. Sì, noi come dicevo prima cerchiamo di giocare come al solito, cioè palleggiando, con un fraseggio, trovare gli spazi per poi liberare gli esterni, la punta. Ma oggi è stato un po' più difficile perché loro non ce l'hanno concesso, ci venivano a gradire molto alti e non siamo stati bravi secondo me a smarcarci. Però sono sicuro che questo gol ci aveva un po' penalizzato e tagliato le gambe. Di conseguenza siamo riusciti a stare in partita e poi abbiamo trovato il gol nonostante ci siamo mangiati qualche gol. Quindi sono soddisfatto. Senti Mirko, ci racconti l'azione del gol, molto bravi Sanzovini e Di Paolo Antonio sulla fascia e tu a tagliare, però non l'hai presa in maniera pulita mi pare. Allora praticamente è stato un contropiede e mi ricordo che Di Paolo Antonio portava palla, è stato bravo, intelligente, imbucare questa palla in diagonale. Io ho attaccato nella maniera diciamo più convinta e concreta verso il portiere e poi dopo mi sono trovato la palla un po' dietro, l'ho toccata e sono stato una volta forse fortunato posso dirlo a diciamo sbilanciare il portiere che poi dopo l'ha presa ma poi è nata dentro lo stesso. Senti la spalla in Serie A ci è andata, ora tocca a te fare l'operazione salvezza col Teramo. Certo, sono contento per i miei ex compagni però io penso adesso al Teramo, penso a me stesso perché comunque sia la mia famiglia e alla squadra perché la città sono merita sicuramente. Abbiamo passato momenti difficili io e i miei compagni quindi dobbiamo stringere i denti, stare uniti e sicuramente ce la faremo. L'ultima sui tifosi oggi sembrava di giocare a Teramo. Oggi sono stati veramente se posso dirlo personalmente ci hanno aiutato sicuramente nel momento difficile ci hanno dato una mano perché a vedere i tifosi che si fanno tanti chilometri per venire a Lumezzane dopo una stagione sicuramente che si aspettavano qualcosa in più posso solo ringraziarli e dirgli di fare l'ultimo sforzo diciamo per riuscire ad arrivare al risultato.